caro massimo massimo ma sono dimagrito pure i capilla fammi capire tutti in linea oggi abbiamo un presidente filigranato crisi di identità è stagliato il gruppo, non è un ragione sempre buco, ma c'è di spettura voi portate i panini un ruo, un ruo, un ruo, un ruo ma no, tu bastardo oh, ma tu hai detto che non sono più africano? e io sono venuto da pestano ma c'è questo che si rilistano? ahahahahah queste roba, cioè... guarda insieme a loro, che le cammini soli? un datarete, cioè... poi c'è lui, continuiamo in un altro posto ma se vogliamo andare a fare l'opera se vogliamo se lo volete fare lo volete fare noi decidiamo lì ok? tutto chiaro? allora, andate la cosa con andate la cosa con Montella se io partito fermatevi veniamo noi a vedere dove state uno è andato in cruce meglio fermatevi se buchiamo e lo sai bene ma io risolviamo tutto ma è successo ieri ahahahahah all'errore 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 è piaciuto questo trattino è piaciuto questo sia il peggio alla grande no a te ha già scusato ma fa un culo è piaciuto questo trattino è piaciuto questo trattino è salvatore di gioco che adesso sta mettendo una tua pezza meravigliaci 5 caffè a banco qua grazie mi resta una mica la coppia che stai spettando effetti covid chi sta parlando con il muro con chi sta parlando giusto per farvi capire effetto covid vai 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 continuo continuo ai posteri chi si è stato vaccinato due volte non so secondo me va vagando perché si sta andando a prendere il caffè eccolo eccolo è stato vaccinato due volte è stato vaccinato due volte ecco ma ecco dieci sono Questa zona Covid, questa gente che non si è vaccinata, vado come mangio quando sono vaccinato poi gli mando alla signora, non mi preoccupate secondo me me ne torno a due oggi no, mi manca così tutto il tempo mi sono così, facete finta che non c'è il soffio forse fa o zoom ma non lo capisci, viene solo la immagine per figura per figura io sono uno, capito? non c'è chi 15 euro ancora un po' bella no, dopo se ci partiamo 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 Grazie a tutti.